Il contenitore di Biorizzi è stato individuato. 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 L'ultimo nemico rimasto. Vittoria alla difesa. Nemici eliminati. L'ultimo nemico rimasto. Trovate la posizione del contenitore di biorischio. 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 localizzato attivo un drone stordente drone attivato è solo un draft il solo difensore è rimasto difensori neutralizzati vittoria per gli attaccanti difendete la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio il nemico ha individuato il contenitore di biorischio dispositivo innescato l'uomo caricatore siamo a 10 secondi il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio è di dimontato che venga pure filo spinato piazzato che fai che fai che fai Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Ispett... sono in cerca di... ... ... ... ... ... ... Nido pronto. ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ...... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... 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 Rimangono dieci secondi. C'è vero. Restano cinque secondi. Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Il drone nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Attivo il sensore. Assecco! Attivo il sensore. Anno. Sì. Sì. Il nemico sta difendendo il contenitore di biorischio. Resta solo un operatore alleato. Missione di difesa fallita. Il contenitore di biorischio è stato preso dagli attaccanti. Il contenitore di biorischio è stato preso.